Buongiorno a tutti e bentornati in questo terzo webinar della giornata in cui parleremo di palette all'interno del nostro Camsys Magic U di nuovo vi voglio ripresentare i miei compagni di viaggio perché in questo webinar saranno addirittura due quindi di nuovo ringrazio di essere qui Senio Corbini, Audio Sales, Product Specialist Audio, prego Senio Ciao a tutti, grazie a voi di avermi invitato, grazie ai partecipanti che sono numerosissimi e stanno aumentando tra l'altro e quindi è un piacere vedere che questa iniziativa che abbiamo iniziato ormai un mese fa sta prendendo piede non solo nel mondo dell'audio ma anche nel mondo delle fiche Assolutamente, è sempre un piacere Oltre a segno di nuovo vi presento Giacomo Gibertoni, utente Camsys esperto nonché mio continuo compagno di avventure, ciao Giacomo Ciao Nicolo, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato Ma ci mancherebbe, loro mi aiuteranno in questo webinar un attimo a filtrare le vostre domande a gestire le vostre domande più che filtrarle quindi direi di non perdere tempo di andare direttamente a parlare di palette non prima di avervi ricordato come sempre di seguire tutti i canali social di Audio Sales per non perdere neanche un video e neanche un'occasione per la precisione iscrivervi al gruppo Operatori Camsys Italia di visitare e seguire la pagina Camsys Italia per tutte le novità di Audio Sales per quanto riguarda Camsys il canale Youtube di Audio Sales nel quale potrete trovare domani la registrazione di questo webinar la potrete vedere in live premiere quindi io sarò disponibile in chat per rispondere ai vostri eventuali dubbi durante la replica e non per ultimo il profilo Facebook di Audio Sales il sito Audio Sales e la sezione formazione per vedere tutte le nuove iniziative e tutti i nuovi webinar che Audio Sales vi propone ma è decisamente giunto il momento di spostarsi su Magic U e di cominciare a parlare appunto di palette allora la prima cosa che faccio è quella di andare a caricare lo show di partenza su cui lavoreremo oggi lo show l'ho creato io quindi lo trovate disponibile su un Google Drive di cui trovate il link all'interno della chat si chiama 03 Palette quindi lo vado a caricare subito facendo lo show Palette eccoci qua è uno show che al suo interno ha già il visualizer costruito per non lo vediamo noi non lo ah si non ho attivato lo screen share di questo mi dovete scusare ti ringrazio sicuro eccolo qua eccolo qua quindi vi dicevo carico lo show che se volete potete scaricare nel quale trovate già il visualizer e se andiamo rapidamente a dare un occhio a quello che c'è all'interno troviamo i classici profile, wash, spot e beam con alcune palette già create ma prima di andare a vedere le palette già create dobbiamo partire dal definire che cos'è una paletta motivo per cui vado a richiamare la mia cara amica Lavagna che sempre mi accompagna come direbbe un bravo poeta che fa anche la rima allora una paletta possiamo definire una paletta in senso informatico come una variabile quindi in senso diciamo un po' più rudimentale come una scatola è una scatola a cui noi attacchiamo un'etichetta diamo un nome per esempio questa mia scatola si chiamerà rosso come potete immaginare sarà una paletta di colore quindi se io avessi un faro a led qua dentro andrei a scrivere i valori di R, G e B che riguardano il rosso per la precisione rosso a 100% green e blu a 0 qual è la comodità di lavorare con una paletta la comodità sta nel fatto che io posso andare a richiamare la paletta ma posso anche come dire ignorandone il contenuto senza curarmi del contenuto soprattutto nel momento in cui io vado a fare un riferimento alla paletta faccio un riferimento allo scatolone e mai al suo contenuto cosa vuol dire? vuole dire che se per qualche motivo magari cambio il faro questo faro ha un rosso troppo acceso per me quindi voglio aggiungere un po' di verde per creare un rosso che tenda un po' più all'ambra posso andare a cancellare il valore di verde che avevo all'interno e andare a scrivere dentro per esempio 12% tutte le memorie che contengono però la paletta rosso verranno aggiornate con i nuovi valori questo è quello che si definisce appunto una paletta ma torniamo su camsis per vederlo all'opera abbiamo detto che vi do anche il visualizer allora come vado a registrare una paletta? intanto vado come sempre ad accendere i miei dimmer ora sto lavorando sugli spot per esempio voglio andare a creare una paletta di colore quindi quello che faccio è cliccare su color per attivare la tab del colore e andare a creare appunto il colore che più mi aggrada diciamo che questo lilla mi piace molto facciamo un po' più saturo ecco una cosa di questo tipo perfetto ho raggiunto il colore che mi interessa a questo punto mi basta fare record e selezionare la cella in cui voglio andare a registrare la mia memoria la mia paletta per esempio o questa ok ho creato la mia paletta come vedo appunto dalla cella che si è popolata gli posso dare un nome e lo posso chiamare per esempio indaco benissimo ho creato la mia paletta come vedete in qualsiasi momento io vado a cliccare un'altra paletta vengono ripresi i suoi valori dobbiamo dire due cose la prima cosa da dire è che quando vado a registrare una paletta camsis applica quello che si chiama il masking cosa vuole dire? che se vado a registrare una paletta di posizione o una paletta di colore camsis andrà a registrare i soli valori che riguardano quella categoria di attributi quindi solo i colori o solo le posizioni proviamo a fare una paletta di posizione prendo i miei spot li metto a full alzo il tilt diciamo che io che in questo momento vorrei usare anche la mia funzione di fan quindi la possibilità di aprire in modo equidistante i miei fari clicco su fan e giro ecco posso dire che non funziona in questo momento perché non funziona? perché non è il risultato che voglio ma questo perché beh se per esempio ora io vedo che di spot ne ho 27 diviso su 3 americane quindi ho 9 spot per americane se io andassi a prendere i primi 9 spot quindi 301 true 309 e li vado ad accendere vediamo se solo su questi 9 il fan funziona clicco su fan giro mi ha creato una raggera perfetta ecco non funziona sui 27 non perché c'è un errore ma perché semplicemente lui li considera come se fossero su un'unica americana uno di fianco all'altro però ho un modo per risolvere questo problema cioè tengo premuto shift e clicco su fan shift fan mi si apre la toolbar del fan quindi posso scegliere sia il fan type che le eventuali parti nel mio caso io voglio un fan a 9 parti mi basta premere 9 in modo che venga inserito nella barra di comando e poi cliccare n parti in questo momento quando apro il fan il fan viene attivato nel modo corretto ve lo faccio vedere vado a modificare un attimo i settings per cui abbasso il beam brightness ok così si vede un po' meglio come vedete ho creato la mia la mia raggera sono soddisfatto della posizione che ho creato record e la metto per esempio sulla paletta sulla posizione sulla posizione numero 5 oggi adesso partiamo in modo diciamo partiamo semplici quindi ci spostiamo sul powerpoint e andiamo a vedere andiamo proviamo a creare queste palette che ci richiede l'esercizio quindi una paletta di posizione per gli spot una di posizione a raggera per i beam e due palette di colore per i beam io vi do i solidi 5 minuti magari se non ci sono domande interromperemo un attimo prima in frattempo lascio la lascio la parola a Giacomo o a Segno per le domande guarda Nicola non voglio passare davanti a nessuno vai vai l'unica domanda al momento che c'è l'ha fatta da scritta Antonino all'inizio di questo webinar chiedendo come poteva ricaricare lo show che diciamo demo per questo web allora sì sì allora semplicemente nel dubbio per chi si fosse collegato adesso vado nuovamente a mettervi il link in chat per caricarlo basta scaricarlo dal link che vi ho dato inserirlo nella cartella show che trovate all'interno di documenti MagicQ e poi fare load show per caricarlo con il nome che trovate molto semplicemente e per ora non ci sono altre domande ottimo arriveranno in massa eh sì per ora sono solo 3 minuti e 44 che mancano a 50 secondi inizieranno a fare domande importanti certo no è che stanno facendo gli esercizi certo 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 va bene voi avete chiamato le domande e Adriano vi aiuta ottimo e chiede se voglio registrare una paletta tilt app devo registrare anche il pan o lo prende in automatico? beh dipende dal tipo di paletta che vuoi registrare cioè se vuoi registrare solo il tilt e non il pan lo puoi fare se però vuoi essere sicuro che il tilt sia in alto dove vuoi ma anche il pan sia dove lo vuoi devi attivare anche il valore di pan quindi muoverlo fare in modo che ci sia un numero e non ci siano i due i due trattini poi Federico chiede come influiscono i proiettori selezionati rispetto alla paletta cioè se creo una paletta per il gruppo dei 27 spot posso utilizzarla su altri gruppi degli stessi spot assolutamente sì perché le palette non vengono registrate per gruppo ma vengono registrate per faro quindi una paletta vale per i fari contenuti del gruppo non per il gruppo in sé e poi abbiamo Gabriele che chiede esistono delle teste dove non mi lascio usare le palette di colore per impostate di MagicQ come mai? beh dipende un po' da come è stata costruita la device e un po' dal tipo di faro nel senso che per esempio non so uno Sharpie non ha a disposizione tutti i colori che MagicQ dà a disposizione come default per esempio non ha il pink mi pare quindi dipende un po' da tante cose dipende dal faro dipende da come è costruita la device se all'interno della device sono state inserite le palette di colore chiarissimo c'è arrivata un'altra domanda proprio a foto finish si posso creare delle palette di effetti o degli store effects? ne parliamo nel webinar degli effetti che sarà domani alle 3 e 3 alle 15 e 30 ottimo arrivati a questo punto direi che possiamo serenamente interrompere il timer e spostarci di nuovo su MagicQ allora l'esercizio chiedeva una paletta di posizione per gli spot che la paletta che di fatto è come quello che abbiamo costruito adesso comunque la rifacciamo al volo prendo i miei spot li accendo gli do la posizione che più mi aggrada vedete attivo anche il pan per fare in modo che venga registrato all'interno della paletta e la metto qui una paletta di posizione a raggera per i beam quindi prendo i miei beam li accendo poi magari li abbasso un po' di tilt abilito il fan e lo apro ok si in realtà poco cambia comunque la soluzione è quella il visualizer è questo ok dopodiché due palette di colore per i beam le due palette di colore per i beam erano un po' anche per il motivo da cui di cui si parlava per quanto riguarda le palette per esempio qua l'amber non posso usarla perché probabilmente non c'è quindi scorro tra i colori ecco diciamo che questo turchese mi può piacere ne posso registrare la paletta così come questo no pink no light yellow vado a registrarmi la paletta ok ho registrato appunto le palette che che mi servivano ora andiamo a vedere come posso andarle ad aggiornare queste palette beh in realtà aggiornarle è molto è molto semplice cioè mi basta andare a per esempio variare una posizione la mettiamo qua sul fondo così fare record qui vuoi aggiornarla sì ok ho aggiunto ho aggiornato la mia posizione ora fino a qua è tutto molto semplice ma vogliamo dare vogliamo un po' alzare la sticella come facciamo cominciamo a parlare di quello che sono le palette complesse ora ci sono situazioni in cui il masking di camsis non mi piace l'esempio perfetto ce l'abbiamo con con i profile quindi io prendo i miei profile li accendo e vado a fare voglio fare un puntamento però tendenzialmente io con i profile vado a registrare anche i coltelli ora non ve lo posso fare vedere perché magicvis non supporta la visualizzazione dei coltelli però diciamo lo zoom cosa faccio vado a puntare i miei zoom faccio highlight in modo da essere più rapido vado a fare il mio bel puntamento questo lo mettiamo dietro su di lui questo lo mettiamo su di lui questo lo possiamo dove sei qua lo lasciamo sempre su di lui next con questo andiamo su ok next con questo lo mettiamo sempre là quindi di fatto vedete sto facendo le mie posizioni come farei in uno spettacolo normale ok ho fatto i miei puntamenti ora cos'è che devo fare sicuramente devo andare a chiudere lo zoom quindi vado a chiudere un po' lo zoom ok bene al di là del palette che non sono troppo precise però posso dire che tendenzialmente quando richiamerò questa posizione voglio richiamare anche questo zoom come faccio per non avere due palette diverse posso creare una paletta complessa per farlo mi basta fare shift più record selezionare pan tilt e zoom close option dopodichè andarla a inserire per esempio qui faccio clear guardate cosa succede prendo i miei profile gli do un locate per riportarli ai valori di default gli do un tempo in modo che si veda meglio quello che succede quindi scrivo 2 che sta per 2 secondi e seleziono la mia paletta come vedete mano a mano che si avvicinano lo zoom si chiude all'interno della mia paletta ora ho anche lo zoom ora per vedere cosa ho dentro una paletta posso usare il tasto qua in alto view palette che mi fa entrare all'interno della paletta per vedere cosa c'è per la precisione qua c'è pan e tilt e anche lo zoom ed è lo stesso motivo per cui qui nell'angolo voi leggete pb position and beam in questa paletta sta posizioni e beam ok ora vi faccio vedere invece la parte cosa succede con le memorie ora io qua sotto anzi queste memorie ve le lascio per l'esercizio ora io ho la mia prendo i miei spot per esempio facciamo int at full e mi vado a prendere una paletta per esempio questa che è una paletta di posizione la vado a salvare ok faccio clear vedete la mia memoria punterà lì quello che succede nel momento in cui vado ad aggiornare questa paletta quindi vado a variare la posizione la metto qui in alto così si vede bene non mi ricordo più se era la 15 o la 5 nel dubbio io le aggiorno entrambe ok vediamo cosa c'era qua dentro due volte tastoscena view q era la 5 ok la mia memoria è aggiornata ve lo faccio rivedere faccio ctrl clear che mi riporta tutti i valori a 0 ok tutto si è aggiornato vediamo cosa succede se io a questa paletta vado ad aggiungere anche dei parametri di colore quindi voglio aggiungere del colore cosa faccio prendo gli spot scelgo un colore scegliamo questo indaco che abbiamo creato prima voglio registrarla qua sopra di nuovo faccio una registrazione come se fosse una complessa quindi tengo premuto shift record bene in questo modo gli dico ok adesso vami a salvare ciano magenta e giallo close option sulla 5 yes la mia paletta adesso è diventata di tipo pc lasciamo stare l'l che vuol dire linkato lo vedremo in un secondo momento guardate cosa succede io ora vado a fare ctrl clear di nuovo come vedete ha aggiornato cioè la posizione l'ha aggiornata a suo tempo ma non ha mai non ha aggiunto il colore questo in realtà è normale perché una paletta va ad aggiornare i valori che erano già esistenti all'interno di una memoria non va ad aggiungere o togliere parametri questa cosa di aggiungere e togliere parametri si chiama expand palette quindi io posso andare a prendere i miei spot clicco su eh in realtà anche senza prendere gli spot comunque clicco sulla paletta che voglio andare a aggiornare davvero tengo premuto shift e qua in alto compare expand palette e il momento in cui clicco expand palette mi dice ok la paletta è stata espansa e adesso vediamo cosa succede di nuovo ctrl clear adesso c'è anche il colore ulteriore verifica vado su view pan tilt e ho aggiunto anche il ho aggiunto anche il colore allora ok quindi quello che vi propongo adesso diciamo più che un esercizio è un esercizio interattivo nel senso che è tutto molto specificato però vi dà la possibilità appunto di riuscire a capire bene quello che succede con palette e non palette delle due memorie come noterete una è registrata a partire dalle palette l'altra invece è registrata a partire dai valori grezzi dai valori quelli che si chiamano hard value valori duri di nuovo io vi do i soliti 5 minuti e nel frattempo se avete domande potete tranquillamente porle al buon al buon Giacomo o al buon segno a seconda di scrivetele pure nel form delle domande Giacomo a te la parole allora abbiamo giusto un paio di domande che sono arrivate mentre tu spiegavi e la prima è di Davide che chiede se esiste una memoria di masking allora non esiste ni diciamo ni puoi andare a disabilitarlo oppure puoi andarlo a bloccare cioè puoi bloccare il tipo di masking lo fai nel momento in cui tieni premuto fai shift più record per entrare nelle record option uno degli encoder mi pare il D ma non il D di domodossola ma non ne sono certo dopo lo guardiamo insieme comunque ti permette di andare a registrare un tipo di masking però si non puoi farti i preset di masking ecco ok poi Federico ti chiede se si può rivedere il passaggio per creare una palette complessa ma in realtà quello secondo me l'abbiamo rivisto anche dopo che che ha posto la domanda perché l'abbiamo fatto per aggiornare sull'expand palette quindi nel caso dopo lo comunque lo rivediamo ok andiamo avanti con Simone che ha appena scritto e chiede ho aperto MagicVis ma l'isualizer non fa quello che sto facendo in MagicVis sembra che non sia collegato con il programma cosa posso fare? allora se dici così probabilmente tu hai aperto MagicVis cioè l'applicativo MagicVis quando in realtà se stai lavorando su MagicVis su computer quello che devi fare è andare nella barra in alto e fare visualizer view visualizer questo perché MagicVis ti serve solo nel momento in cui vuoi connettere un computer vuoi connettere un banco esterno al computer ok poi Adriano chiede posso invece di aggiornare una paletta sostituirla per capirci con gramma se faccio store palette mi chiede se voglio mergiarla o sostituirla eeeh ni 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 perché diciamo che l'update l'update della palette di fatto è il merge il replace stavo pensando ad altre soluzioni no il replace in uno step solo non mi viene in mente puoi andare a rimuovere dei parametri ed è lo stesso modo che utilizzeremo per fare un record remove anche sulle memorie lo vediamo domani però non hai l'opzione come in MA no quello no Federico chiede le record options in generale non solo nelle palette vengono riportate a modalità di default una volta fatta una registrazione dipende come dicevo prima se abiliti il tra virgolette blocco del masking in generale si cioè di default si ma è possibile bloccare questa cosa per adesso le domande sono finite ok abbiamo ancora un minuto e trenta ecco Stefano arriva con una domanda visto che ho un minuto e mezzo ancora se io faccio una paletta estesa quindi salvo pan, tilt e zoom quando torno a chiamare una paletta con solo pan e tilt e lascio lo zoom come lo ha trovato giustamente esiste anche un modo per far sì che lo zoom in questo caso torni al valore iniziale allora no quello che dice è corretto cioè io faccio una paletta complessa con pan, tilt e zoom cambio posizione rimane l'ultimo zoom ed è il concetto di LTP cosa che suonerà strana ai nostri amici della concorrenza nera e arancione ma questo semplicemente insomma sono due metodi di lavorare diversi in realtà quello che tu mi chiedi cioè esiste un modo per far sì che lo zoom torni al valore iniziale diciamo che non c'è un vero e proprio valore iniziale se non il valore che era in default quindi in realtà no perché è esattamente come se tu andassi ad attivare una paletta di zoom all'interno della visuale beam e rimarrebbe comunque quella abbiamo Emanuele che fa una domanda giusto sullo scadere del tempo esempio paletta a raggio per due tipi di fari diversi posso scriverla nello stesso blocco mi chiedo uso P1 e scrivo due palette assolutamente sì una paletta può contenere i parametri di tutti i fari che ci sono all'interno assolutamente sì Esattamente cioè vai a inibirlo per quella registrazione specifica Allora andiamo su MagicQ così queste cose ce le andiamo a vedere Allora intanto giusto perché è stata una domanda ricorrente ecco vedete tengo premuto shift record qui posso bloccare o sbloccare il masking e volendo qui ho anche già dei preset tipo tutta l'intensità tutta la posizione tutto il colore tutto il beam quindi insomma quella è una possibilità questa è una possibilità che ho allora quello che vi diceva l'esercizio in realtà non è che c'è molto da correggere ma serviva semplicemente per dimostrare cosa succede quando vado ad aggiornare una paletta su due memorie che sono una con art value e una invece con una con le palette ah tra l'altro notate che io ho bloccato il mask anzi no avendo abilitato un masking personale qui sotto mi compare mask che me lo sta a ricordare se io avessi bloccato questo tipo di mask vedete il mask sarebbe rimasto per ricordarmi che l'avevo bloccato in qualche modo comunque allora memoria 1 cosa c'è dentro paletta p1 paletta p2 come posizione e colore su invece sul playback 2 ho la stessa roba ma con art value quindi vado a aprirle ok 1 e 2 sono esattamente uguali ora modifico le due palette p1 e p2 quindi p1 diciamo che semplicemente la basso un po' di tilt faccio proprio al buio e p2 invece che colore era ah era questo va bene gli diamo magenta full che diventerà un colore totalmente diverso yes clear vediamo cosa succede memoria numero 1 memoria numero 2 ok abbiamo visto quindi che modificando le palette questa che era in art value è rimasta tale questa invece che era in palette è stata modificata dopo di che ci diceva di aggiungere sì aggiungere un gobo alla paletta p2 quindi gli andiamo ad aggiungere un gobo abbastanza casuale alla paletta p2 quindi di nuovo devo fare shift record inserisco entrambi i gobo perché così mi prende anche il gobo quello a 0 lo vado ad aggiungere qua sopra yes cosa devo fare però adesso devo fare expand palette tengo premuto shift expand palette ora vediamo che c'è il gobo ma il gobo rimane in entrambe a meno che io non faccia appunto locate clear e guardo la numero 1 invece che locate clear posso anche fare control clear tengo premuto control e faccio clear ovviamente con la memoria giù e nella 2 vediamo che il gobo infatti non c'è quindi questa è la grande differenza delle palette del lavorare con e invece senza palette appunto c'è un'altra possibilità che è molto interessante che è quella che si chiama replace palette mi prendo la mia memoria m3 adesso vado a vedere cosa c'è dentro view q ok vedete c'è p1 e di nuovo c'è p2 ora diciamo che questo colore non mi piace di più mi piace di più quello che mi sono creato prima ho questa possibilità invece che andare a fare record merge posso andare a variare proprio il riferimento della paletta come faccio clicco sulla mia paletta e tengo premuto shift di fianco a expand ho replace palette la prima cosa che mi chiede è ok seleziona la paletta da replicare questa con quale la vuoi rimpiazzare con la 15 ok ma in quale qstack in questo attenzione vedete mi dice ok replacement palette does not have all attributes questo perché qui sono andato a inserire anche il beam se voglio che questa cosa funzioni devo per forza andare a inserire i valori di beam anche all'interno di indaco quindi all'interno di quest'altra paletta in realtà come vedete mi dà un avvertimento ma comunque me lo fa quindi cos'è andato a fare più più è andato a variare andando a inserire in ciano magenta giallo la palette che si chiama indaco mentre all'interno di rot quindi dei gobo ha mantenuto la paletta numero 2 che è una paletta di colore però comunque ha mantenuto questa questo è molto comodo nel momento in cui voglio andare a fare una modifica di una posizione perché posizione di una qualsiasi paletta nel momento in cui io ne voglio andare a fare una modifica è estremamente comodo perché mi evita di fare un record merge magari intervallato per cui nella prima e nella quarta memoria devo modificare proprio quel colore quindi cosa faccio di nuovo voglio adesso modificare il colore con pink cosa faccio tengo premuto shift clicco su pink replace palette voglio modificare indaco con pink qui dentro ok sono andato ad aggiornare la mia memoria abbiamo delle domande allora abbiamo una domanda di Ilario che chiede se è possibile avere delucidazione sulla funzione del masking ok adesso vediamo che tipo di delucidazione però qualcosa sicuramente si può dire semplicemente il masking è quella funzione che fa in modo che se io registro un colore una paletta di colore mi vado a registrare i soli attributi di colore è un grande nome dietro a un concetto semplice cioè vedete nel momento in cui faccio shift record ho la possibilità di scegliere singolarmente quali attributi andare a salvare o meno ma per masking si intende solo quello è come immaginate una tavola bucata piena di tappi che non fanno passare niente voi andate a togliere i tappi per fare in modo che passino solo le informazioni che volete voi ok poi Stefano chiede potresti spiegarci come escludere un valore salvato su una paletta ad esempio se è una paletta di pane che voglio studiare da questa allora in realtà ho due possibilità cioè diciamo che è una cosa che posso fare sia in fase di registrazione che in seguito quindi per farlo in fase di registrazione se io ora di nuovo vado a crearmi vado a prendermi la mia posizione faccio questa roba qui bellissimo ok questa voglio salvare però solo il tilt e non il pan tengo premuto shift record seleziono solo il pan quindi clicco solo su pan vado a metterla qui qui dentro adesso ho solo il pan il tilt non è stato registrato se invece quello che voglio fare è farlo in una fase successiva quindi farlo in fase di già di esecuzione insomma la palette è già stata registrata qua per esempio voglio escludere di nuovo il pan registro la mia paletta quello che posso fare di nuovo è fare view palette seleziono la colonna di pan remove e in questo modo sono andato a rimuovere i valori di pan ottimo ottimo ora per quanto riguarda le palette diciamo è importante sempre sottolineare che possiamo al volo quindi in fase di proprio di esecuzione andarle a temporizzare un po' come vogliamo e di nuovo vi vado a riportare agli shortcut su questo pdf di nuovo link in chat ho tutta una serie di impostazioni di sintassi che posso andare a utilizzare per lanciare le palette al volo durante lo show eccolo la sezione è palette sono in pagina 3 ed ecco che mi dice play palette with 3 seconds quindi in 3 secondi perfetto mi basta fare 3 e selezionare la paletta così come con asterisco posso usarla funnet asterisco slash un reversed into center con il più center out con il meno random fun con il punto oppure posso usare il true vediamo che cosa vuole dire allora cominciamo con 3 e basta con 3 passo al ciano ok ho semplicemente un fade di 3 secondi al ciano 3 asterisco all'ambra vedete una alla volta per un totale di 3 secondi 0 true 3 al ciano cosa vuole dire che la prima si metterà 0 secondi l'ultima se ne metterà 3 e in mezzo tutte le varie proporzioni ora per dire io qua ho 27 fari adesso esagerata però 27 asterisco amber tutto diventa molto graduale il passaggio tipo dell'ultima sarà un fade di 23 secondi no scusate ho fatto 27 asterisco quindi ognuna avrà un fade di un secondo se io invece gli vado a dare partendo dall'amber 1 true 27 ciano ok vedete che ordinatamente cominciano ognuna però con un secondo in più di fade dopodichè ci sono i vari ordinamenti quindi per esempio posso dirgli 3 asterisco backslash qua partirà dal fondo oppure 3 più in questo modo sarà se ho sbagliato 3 asterisco più in questo modo sarà dall'esterno verso il centro oppure 3 asterisco meno sarà dal centro verso l'esterno quindi rapidamente in in show posso utilizzare questa sintassi per riuscire appunto a giocare rapidamente con i cambi colori dopodichè posso anche complicarmela quindi per esempio qua suggerisce lo shortcut 0 true 3 slash 1 che vuole dire fade di un secondo con un delay che va da 0 a 3 secondi insomma dopo poi entriamo nell'esoterismo comunque queste sono tutte possibilità che potete utilizzare per per lavorare soprattutto live ecco un'ultima cosa che tanto so che mi chiedete tutti come faccio andare a mettere un'icona semplicemente invece di fare set e dirgli pippo quindi andare a dire il nome farò shift più set clicco sulla mia paletta mi si apre il file manager da qui posso andare a scegliere l'icona che preferisco da inserire qui dentro ok abbiamo delle domande se ci sono tiratele fuori anche perché sulle palettes non abbiamo molto altro da dire e sono sicuro che ci sono aspettiamo che scrivano esatto esatto abbiamo delle mani alzate ok allora Aldo prima di essere il più veloce posso mettere in una memoria i cambi colori assolutamente si tra l'altro c'è un modo estremamente veloce per creare per esempio un chase di colori che è questo se ho le mie macchine selezionate evidenzio tutti i miei colori quindi dal primo all'ultimo trascino diventano gialli copy mi chiede destination lo metto su un playback ora vado ad accendere il dimmer vediamo cosa succede ho creato al volo un chase di cambia colore ottimo resto in attesa di altre domande ok stefano intanto ti ringrazio per avermi fatto coprire cose arcane molto affascinanti ottimo questo mi fa molto piacere intanto mentre scrivete domande vi ricordo l'appuntamento di domani domani parleremo di memorie timing timing e tracking e di effetti e soprattutto vi ricordo la possibilità di prenotare una one to one con me sabato pomeriggio tutti i sabati pomeriggio dalle due alle otto venti minuti di tempo per risolvere i vostri eventuali dubbi problemi perplessità o curiosità vi ricordo anche che giovedì dopo il terzo webinar ci saranno la possibilità di assistere a un question and answer dove i microfoni saranno aperti alle vostre domande più generali su cams e sui vari argomenti proveremo a rispondere a più domande possibili allora nel frattempo sono arrivate alcune domande la prima è quella di Giovanni si chiede si può creare una memoria di quello che hai fatto poco fa ovvero il passaggio di colore tra palette da ognuna delle teste mobili perdonami ma non ho capito allora una memoria di quello che fa una memoria ovvero il passaggio di colore tra le palette e beh di fatto io quello che ho creato è un chase è una sequenza di memorie quindi assolutamente si poi se non era questa la domanda scusa mi ti chiedo semplicemente di precisarla un attimo andiamo andiamo avanti Giovanni specifica solo scrivendo i comandi i comandi abbreviati ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito beh allora se io per esempio sono in spot amber e salvo la memoria quello che posso fare è dirgli 3 asterisco più ciano e andarlo a salvare passo passo in queue timing e quindi mi salva anche i tempi se non sapete volete sapere che cos'è il queue timing iscrivetevi al webinar di domani vado avanti sì sì perfetto allora Maurizio chiede se può ripiegare velocemente il concetto di espandere le palette allora quando era utile questa cosa certo allora il concetto di espandere nasce perché le palette di default vanno aggiornare i valori cioè i loro valori all'interno delle memorie ma non vanno a modificare i parametri contenuti nelle memorie cioè se io ho una paletta che ha dentro rgb andrà solo a modificare e aggiornare in tutte le varie memorie i valori di rgb se io aggiungo o tolgo un parametro non viene modificato l'expand palette serve proprio a dire non aggiornare solo i valori ma aggiorna anche i parametri contenuti in questa paletta i casi più utilizzati sono tendenzialmente allora coi profile sicuramente dove vai ad accorpare la posizione la scoltellata il fuoco perché sono tre cose che lavorano insieme oppure quando vado a cambiare a modificare una mia fixture passo da per esempio una fixture in rgb a una fixture a ruota colore quindi passo da tre canali a un canale quindi lo devo fare in realtà i casi sono diversi soprattutto dipende molto da come programmi tu potresti non averne mai bisogno potresti usarlo sempre poi Alessio vorrebbe sapere se una paletta complessa può essere memorizzata in uno qualsiasi di tappo assolutamente sì nessuno ti vieta di creare una paletta di posizione e basta registrata facendo shift record e selezionando la posizione e registrarla dentro a BIM non è assolutamente necessario che ci sia coerenza tra il nome della finestra e la paletta poi abbiamo Alberto che chiede posso inserire nelle mie palette direttamente posso inserire le mie palette direttamente nelle fixture nel senso quando richiamo nel patch una fixture la carico già con le palette che mi sono preparate lo puoi fare ma non è per niente semplice nel senso che facciamoci un passaggio rapido ora vado a prendere per esempio quegli spot faccio edit dopo view range mi trovo view palette e devo andare a inserire una alla volta con tutti i vari livelli quindi se tu hai voglia di andartele a mettere qui dentro tutte quante assolutamente sì non c'è nessun problema devi andarti a modificare la macchina e inserirle in questo modo in alternativa puoi fare un import o un capture palette così te le vai appunto a catturare dall'out attuale quindi in questo modo sì lo puoi fare se vuoi poi Emanuele chiede quando creo posizioni con highlight a volte mi dimentico di selezionare tutti i vari prima di salvare posso tornare indietro? Allora Ni nel senso dovresti provare con l'Handu ma è una di quelle cose che non garantisco però ma prima di garantirtelo voglio fare una prova highlight comunque ah già però il highlight single lavora in questo modo qua sì proviamo clear undo no non più di tanto una cosa che puoi fare però se non hai fuori memorie quindi comunque la tua posizione è ancora in output cioè non è stata modificata quindi ancora lì puoi utilizzare active pause active pause tra le shortcut lo troviamo come adesso ti trovo la riga eccolo qua make active position attribute quindi pause più set oppure se stai usando il pc mi sbaglio sempre non vi metto il visualizer comunque se stai usando il pc puoi andare su macro vai sulla prima libera e clicchi su inbuilt macro active pause per esempio in realtà visto c'è un modo più semplice ora che ci penso che è quello di utilizzare l'active in generale allora ti faccio vedere accendo i miei fari vado a dargli una posizione che per esempio è questa ok faccio clear ah mi sono scordato di salvare cosa faccio vado su spot li accendo giusto per comodità tengo premuto shift e faccio active active cosa fa va a portare in programmatore tutti i valori dei fari selezionati a questo punto posso andare a salvarmi tranquillamente la mia palette di posizione tanto visto che c'è il masking mi andrà a scartare tutti gli altri valori quindi si puoi fare questo potrebbe essere un ottimo modo poi Alberto ti chiede posso memorizzare una paletta di fuoco su tutti i gobo assolutamente si ed è anche molto comodo soprattutto se la paletta in questione è linkata cosa vuol dire linkata allora mi faccio qui prendo i miei spot mi faccio qui una paletta di fuoco non mi interessa adesso il valore ok clear dopodichè cosa faccio seleziono la paletta di fuoco e gli vado a dare un gobo gobo 1 seleziono la paletta di fuoco e gli vado a dare un altro gobo seleziono di nuovo la paletta di fuoco e gli vado a dare un altro gobo ok perfetto clear qui dentro ora faccio view palette e leggo che il gobo è il rot gobo quello che doveva essere focus invece è la paletta B006 quindi adesso andando ad aggiornare questa paletta di fuoco quindi la paletta numero 6 aggiornerò il fuoco di tutti questi gobo ottimo l'ultima domanda per adesso e te la pone Davide che ti chiede come si comporta il clear a più livelli o è singolo? no il clear è singolo clear vuota il programmatore ma essendo cioè visto che camsys interpreta i parametri come veri LTP fa in modo che tutti i fari rimangono lì in realtà non hai diversi livelli di clear ma hai diverse possibilità sul clear cioè hai la possibilità di fare shift clear che è un clear delle sole macchine selezionate oppure ctrl clear che fondamentalmente equivale a tre volte clear su MA quindi oltre a fare clear riporta tutti i parametri in valore di default quello che camsys chiama clear zero clear zero e le domande per ora sono finite va bene allora ti direi vi direi che visto che le domande sono finite io vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio Giacomo ringrazio o segno che in realtà Momo è scappato ma glielo faremo sapere e di nuovo vi ricordo che domani troverete questo webinar registrato sul canale di Audio Sales quindi iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere video noi di nuovo vi ringraziamo a nome di Audio Sales e a nome di tutti noi e vi auguriamo una buona serata e ci auguriamo di rivedervi domani o nei prossimi webinar che organizzeremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti